Un'annata eccellente per la qualità dell'olio dell'Alto Chiascio lo garantisce l'agronomo. Le temperature miti e l'assenza di piogge hanno caratterizzato il prodotto dal punto di vista qualitativo con una maggior presenza di clorofille e polifenoli. Dunque un'annata che riuscirà a far dimenticare il recente passato caratterizzato invece dalla perdita di gran parte del prodotto per la presenza della famigerata mosca. Gubbio e l'Alto Chiascio dunque quest'anno potranno vantare un ottimo prodotto anche se in quantità minori di quelle sperate. Un'annata particolare, un'ottima annata. Veniamo da un'estate che ha fatto vedere delle temperature molto elevate, un tempo generalmente mite. L'olivo ha quindi dopo la fioritura maturato il prodotto in maniera eccellente. Alla metà d'ottobre si è iniziata a raccogliere anche qui nei nostri reali dove magari la quota un pochino ritarda la maturazione. Siamo entrati nel vivo della campagna olearia, quindi hanno aperto i frantogli. Qui oggi siamo di fronte a uno dei frantogli di Gubbio e abbiamo subito visto due cose parlando del nostro reale. Poi le cose cambiano in Italia andando poi nelle varie zone. Qui c'è la produzione quest'anno un pochino inferiore a quella che erano le attese, probabilmente per problemi legati al gran caldo, infine fioritura, che ha fatto nei mesi di fine maggio e giugno. Una qualità eccellente del prodotto, soprattutto a differenza dell'anno scorso, un'assoluta assenza dei parassiti, quindi la mosca dell'olivo, che non ha richiesto praticamente interventi. E quindi siamo ancora di più caratterizzata la nostra produzione per una quasi biologicità, anche se non certificata, che è la caratteristica dei nostri olivi, la caratteristica dei nostri prodotti. Quindi è venuto in frantoio, inizia a venire una buona quantità, anche se non è quella attesa, come abbiamo detto, e soprattutto di una qualità eccellente. L'ultimo periodo che abbiamo trascorso, quindi l'ottobre, fine ottobre, e questo scorcio di novembre appena trascorso, con delle temperature miti, un cielo e un'assenza di piogge, ha ancora di più caratterizzato il prodotto dal punto di vista qualitativo, concentrando ancora di più quelli che sono i polifenoli, quelli che sono le clorofille presenti nell'oliva, che danno una caratterizzazione, quindi un profilo molto deciso, molto marcato, molto forte, se vuoi, ai nostri oli che derivano dalle varietà più diffuse, frantoio, borciona, leccino, nella nostra zona. E quindi abbiamo degli oli molto robusti, li definirei così, molto verdi, con un carattere piccante, amaro, veramente spiccato, che però, va detto dal punto di vista nutrizionale, sono la ricchezza vera del nostro olio. E quindi un olio che troviamo in frantoio oggi, con quelle caratteristiche, ancorché magari non si sposi bene con piatti particolarmente delicati, è un vero concentrato di salute. E' questa la caratteristica che quest'anno abbiamo, quindi un'annata eccellente, dove effettivamente merita magari puntare sul consumo dell'olio, sostituendo l'olio a quelli che sono i grassi animali, magari per quanto possibile, proprio perché questo prodotto, lavorato a freddo, lavorato da olive sanissime, senza residui chimici di nessun tipo, è veramente un concentrato di salute. E questa era una cosa che premeva sottolineare dopo un'annata molto, molto sofferta, come è stata quella dell'anno scorso, dove veramente la qualità scadente, 2.000 problemi legati a tanti parassiti presenti, hanno praticamente distrutto la nostra produzione olivicola. Il territorio di Gubbio, il territorio dell'Alto Chiascio, è comunque, per certi versi, vocati. C'è una fascia altimetrica che va dai 450 ai 650 metri, che può essere molto buona e utilizzata con le varietà giuste e rappresentare una risorsa per il nostro territorio. E' uno dei nostri punti forti. L'olio può essere, nei nostri territori, un prodotto importante per un'agricoltura che soffre della marginalità. Le vocazioni del territorio vanno sempre seguite. L'olio è una di queste. Argomento che è transitato spesso sui media, la questione legata al prezzo dell'olio. Noi vediamo sui scaffali la grande distribuzione degli oli venduti a dei prezzi estremamente bassi, quando parliamo di 3-4 euro al chilo o al litro, anzi è meglio perché viene venduto come volume, ci troviamo di fronte a un prodotto con un'etichettatura molto simile a quella che troviamo in un frantoio di questo tipo. Noi conosciamo bene dal punto di vista agronomico i costi di raccolta in olivetti tradizionali e sappiamo perché sono stati fatti studi a riguardo che questi sono costi molto importanti, senz'altro non in linea con il prezzo che troviamo nella grande distribuzione. Quindi io una domanda volevo rivolgere al nostro frantoiano perché per capire quali sono le vere differenze che lui vede tra un olio e solo provenienza oppure anche qualcos'altro nella qualità del prodotto di partenza. Allora qui ci addentriamo su un discorso un pochino complicato, la differenza fondamentale è una secondo me, allora il frantoio può ottenere olio solo con un procedimento meccanico, cioè solo tramite una spremitura, non può impiegare altri tipi di olio, mentre l'olio che troviamo nel supermercato, cioè l'olio dell'industria, sono oli che possono essere, o che vengono toccati chimicamente, succedono un po' di cose diverse all'olio, prima di tutto viene importato tanto prodotto che qualitativamente è molto scadente e questi tipi di oli vanno spesso lavorati, vanno fatti dettagli, ci sono persone che ci hanno palati particolari per studiare i dettagli, prendono degli oli che non stanno di niente con oli che altrimenti sarebbero troppo forti e li mischiano, poi c'è anche chi si arriva alle frodi alimentari come si è visto in questi giorni in televisione, cioè che oli non extravergini vengono venduti per extravergini, c'è l'aggiunta di clorofille, di betacarotene, di addensanti, perché effettivamente non è possibile che un chilo d'olio costi come una bex al bar, è una cosa impossibile perché poi sulle nostre colline raccogliere 100 kg di olive una persona impiega più di un giorno e quei 100 kg di olive danno 15 kg d'olio, quindi l'olio nostro alla fine credo che sia quasi sottopagato perché sono due prodotti completamente diversi, se noi pensiamo, cioè l'olio Umbro, Toscano e Ligure, quelli diciamo artigianali, sono considerati i migliori oli al mondo, quindi non va fatto il paragone con l'olio del supermercato, è come dire, il vino, compriamo il Baccolino o il Brunello di Montalcino, cioè il nostro olio può essere paragolato al Brunello di Montalcino, mentre l'olio del supermercato è un prodotto per tutti, però ecco, non dobbiamo sperare di trovare qualità e gusto particolare, ecco. E dunque sono soddisfatti anche i titolari dei Frantoi di Gubbio, 4 che in questo mese stanno lavorando con coltivatori della zona ma anche dell'Umbria in genere. Da Gubbio sono in tanti quelli che con gli olivi in giardino e in un piccolo appezzamento hanno il gusto di portare a casa pochi litri del proprio olio e dunque si recano al Frantoio anche con pochi chili di olive. E se le abitudini familiari sono cambiate con pranzi e cene sempre più spesso fuori casa, i giovani continuano a scegliere i prodotti di qualità, ma sempre meno degli anziani. I nostri clienti sono dall'azienda agricola media, perché qui non ci sono grosse aziende olivicole, all'anziano che ha l'olivo nel giardino, quindi dai 4-5 chili fino a qualche decina di quintali. Stanno grossissime produzioni, non ci sono, quindi l'olivo è arrivata sempre in piccole quantità, è stata sempre macinata in giornata e questa è una cosa che garantisce appunto una qualità ottima, soprattutto in un'annata come questa che è già eccezionale per l'andamento delle temperature della stagione che hanno fatto sia appunto, come ha detto il dottor Becchetti prima, che l'oliva sia di un'altissima qualità. Storicamente il cliente del Frantoio che viene a comprare l'olio è la persona normale, diciamo l'anziano, il nonno, lo zio dentro casa, che quelli che ancora comprano l'olio per tutto l'anno, che comprano il maiale, che comprano la legna per tutto l'inverno. Purtroppo sono generazioni che stanno un po' venendo meno e qualche volta questo a noi ci dà un po' fastidio, però anche da parte dei giovani abbiamo visto una discreta sensibilità, ecco solo che i giovani magari fanno un investimento più piccolo, comprano i 5 litri per volta, 10 litri, non una scorta per tutto l'anno. Anche perché poi i consumi sono cambiati, perché mentre prima una famiglia di 4-5 persone se mangiavano in casa tutti i giorni si cucinava di più, adesso i ragazzi mangiano a scuola, la sera vanno in palestra, qualche volta si scappa il sabato sera, quindi si cucina un pochino meno e quindi si consuma meno olio. Grazie. 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 Grazie.